Avevamo lanciato un appello alla città per avere un sostegno a questa esigenza che abbiamo di dare alle palestre scolastiche, nelle attività sportive e dei defibrillatori per garantire a tutti il diritto alla salute e alla sicurezza, oltre all'obbligo di legge per tutte le attività, anche quelle serali che svolgono i cittadini e le associazioni sportive. Lavoro più ha raccolto con grande entusiasmo questa richiesta, di fatto sarà main sponsor di questa iniziativa saranno oltre una sessantina le palestre scolastiche che da settembre, quindi avranno un defibrillatore e potremmo così affidarli ai gestori delle palestre e mettere in sicurezza non soltanto i ragazzi che durante le attività scolastiche svolgono la normale attività, ma tutti i cittadini bolognesi che frequenteranno le palestre comunali. Il defibrillatore parla palestra che anche una legge nazionale impone come obbligo dove c'è competitività nelle scuole, dove ci sono quindi delle competizioni, ma che l'assessore ha voluto estendere a tutte le scuole di Bologna, perché in effetti dove c'è una palestra, perché tutti i giorni c'è la dimostrazione che questa è una cosa fondamentale, importante.